Nei centri driver, prima di offriti i migliori servizi per i tuoi pneumatici e la tua auto, facciamo un check su noi stessi. Affidabilità? Garantita al 100%. Convergenza di tecnologia e professionalità? Precisa al millimetro. Equilibratura tra territorio e punti vendita? Più di 430 centri in tutta Italia. Nei centri driver, tutto gira alla perfezione. Ecco perché siamo la rete ufficiale di rivenditori Pirelli specializzati nel servizio pneumatici e assistenza. Scopri il centro driver più vicino su driver.it. Grazie.